Turetta, da quanto è trapelato, passa anche questa giornata nella sesta sezione della casa circondariale di Montorio Veronese, nell'infermeria dell'Istituto Scaligero, dove si trovano una ventina di carcerati. Oggi compie 22 anni, Radio Carcere riferisce che fa fatica a sostenere lo sguardo delle poche persone che incontra e si vergogna molto, ora che oltretutto cominciano le analisi del RIS di Parma sulla sua Fiat Grande Punto Nera. In funzione del fatto che Giulia è stata aggredita prima poi di essere trasportata in macchina fino purtroppo alla destinazione finale, è necessario sia nella parte interna che in quella esterna rinvenire delle tracce essenzialmente di sangue, visto che era comunque ferita, per capire intanto dove è stata trasportata e questo fa anche la differenza rispetto alle sue responsabilità, quelle di Filippo Turetta, cioè se è stata trasportata nel bagagliaio oppure nell'abitacolo. E l'altro aspetto riguarda se vi sono tracce di sangue non solo da contatto che già danno delle indicazioni, ma delle tracce di sangue magari da proiezione, il che significherebbe che Giulia, speriamo di no, è stata ulteriormente colpita all'interno dell'auto. Grazie.